Match for Alessandro. L'associazione donatori di Midollo Osseo chiama a raccolta per la seconda volta i comaschi. Dopo l'evento di Erba, infatti domani, a partire dalle 9, i volontari hanno organizzato all'ospedale Valduce di Como un nuovo incontro di tipizzazione, con il duplice obiettivo di coinvolgere nuovi potenziali donatori e soprattutto trovare un donatore compatibile con Alessandro. La sua storia ha fatto il giro d'Italia e non solo. Alessandro Alex è affetto da una rarissima patologia. L'unica speranza per lui è trovare un donatore di Midollo Osseo compatibile e la statistica dice che ciò è possibile solamente in un caso su 100.000. Restano pochi giorni di tempo, perciò Admo ha organizzato una serie di tipizzazioni, catalogazioni, di potenziali donatori di Midollo Osseo in tutta Italia. Il primo evento comasco sabato scorso a Erba ha chiamato a raccolta quasi 200 persone. Domani, venerdì 9 novembre, si replica all'ospedale Valduce di Como a partire dalle 9. Sul sito di Admo Lombardia si può scaricare sia il modulo delle patologie escludenti, sia il modulo di registrazione da portare compilato. I requisiti necessari sono godere di buona salute, avere un'età compresa tra i 18 e i 35 anni e avere un peso corporeo di almeno 50 kg. Admo fa appello ai comaschi, il tempo rimasto è poco. Più persone si presentano alla tipizzazione, più aumenta possibilità di trovare un donatore compatibile e salvare la vita di Alessandro.